Omicidio di Carugo. Il pubblico ministero Massimo Astori della Procura di Como ha affidato l'incarico per studiare la mente di Marcello Suriano, il 22enne che lo scorso 8 agosto ha strangolato la madre, Mariangela Moiola, al termine di una lite. Gli inquirenti vogliono quindi approfondire la capacità di intendere e di volere del ragazzo. La consulenza è stata affidata al professor Adolfo Francia, che nelle scorse ore si è recato al carcere del Bassone per un primo incontro con Suriano. Francia aveva già lavorato a un caso familiare che aveva sconvolto la provincia di Como nell'estate del 2009, l'omicidio di Maria Rosa Albertani a Cirimido. Le indagini dei carabinieri permisero di risalire alla responsabile, ossia la sorella Stefania. La vicenda di Marcello Suriano, come detto, risale alla sera dello scorso 8 agosto. A Carugo, al termine di un litigio per futili motivi, il 22enne prima ha tentato di strangolare la madre, poi l'ha finita soffocandola con un sacchetto di plastica. Ora toccherà al consulente incaricato dalla procura stabilire se il ragazzo fosse capace di intendere e di volere.